spesso ci viene chiesto di sviluppare e accelerare le strategie digitali due dei principali strumenti per l'accelerazione delle strategie digitali più conosciuti sono il programmatic ed edward sono due strumenti conosciuti e molto distinti tra di loro il programmatic ci consente di creare per determinati target strategie di comunicazioni diverse a seconda delle loro interazioni con lo strumento per una corretta strategia in programmatica è necessario implementare innanzitutto una grande analisi e una grande strategia per individuare correttamente quelli che sono i target e le campagne migliori per ottenere i massimi risultati dall'investimento preposto adwords invece è uno strumento di advertising che serve a portare gli utenti all'interno del proprio website quindi della propria casa digitale questo tipo di comunicazione pay to click ci consente di recuperare molto più traffico di ricerca e quindi accelerare il processo di indicizzazione dei nostri website e di che avere maggiori ritorni economici sugli investimenti attraverso una campagna mirata e ben strutturata siamo in grado di intercettare attraverso le parole chiave o le reti consentite da google quegli utenti che sono interessati ai prodotti e servizi che commercializziamo in questo modo possiamo consentire ai nostri servizi e i nostri prodotti di arrivare prima all'attenzione del consumatore finale programmatic ed adwords sono due strumenti che ci consentono da una parte del programmatic e di amplificare la nostra brand awareness quindi la nostra visibilità la notorietà del nostro brand mentre adwords ci consente di amplificare il traffico in ingresso nei nostri canali digitali consentendo di penetrare più agevolmente più rapidamente il mercato di riferimento